la natura però si rischiavati forse farei bene chiedere un po' di chi a papà ma lui su queste cose è molto sui Papà, papà, papà! Vittorazzi, si parte, signori! Sì, 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 sì! Sì, sì! Ammè, non vedete il tuo giocchio! Eccomi, signora! Questa è una mangiata! Ah, figlio! Questa è una mangiata! Questa è una mangiata! Vieni! Questa è? Ah, questo! E questa! Ah, mamma mia! Vedo che avete fatto buone acquisti! Signora! E come sono stancato! Ma tu non capisci proprio niente! Ma se noi siamo più legati, lo facciamo per te! Lo facciamo per farti uguale il mio bello appiccura con i propri simbolici e con i tuoi lettori! Eh! 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 Ha un po' di benessere! Così, non mi mischierei in affari poco puliti! Inca tutta una vita tranquilla e onesta! Oh, Simona! Che stai dicendo? Tutto da un colpo! Vuoi chiedere a tutta la tua famiglia che rinuncerà ad essere a quale sono più fatti a fidere! Ma non c'è niente di questo che scusa! Ma è proprio perché ci penso che ti sto dicendo queste cose! Ma io non riesco a capire, mamma! Tu con il tuo grande invidio aiuti le persone dà una mano alla collettività ma non ti assuma quando devo avere! Hai ragione! Apparentemente non c'è nulla di male! Ma tu non sei quello che c'è sotto! Qui! Ognuno tira l'acqua al suo pulito! Eh! E allora tu fanno meccanoggiati! Eh! E fino ad ora non sei un fatto! No! Abbiamo litigato! E ci siamo lasciati! Mi hai fatto proprio bene dal tronto con un breve senza nuve e con un uomo dove gli fa a fare! Non si va da nessuna parte! Non mi piace! Nonno, verai io! Io ancora bene! Ah! E dai! Calvati di motina! Non piacciono! Mi piacciono anche a me! Calvati! Dall'avanti c'hai che sei una bella di sciomina, eh! Sei tanto carino Mettiti con pazienza seduto sulla macchina della stazione non vedrai! Ma non ridano per cui passeranno! Nonno, ma dovresti aspettare! Ma nel frattempo che cosa faccio? E che puoi fare, nonni te? Prendi un bel vicino qua soverso! Per due donne questo del matrimonio è un fiolo figlio! Sì! Sì! Ma che uomo in questa storia? Ma non mi fai avanti! Questo è un mistero di una spaziale! Allora che tu hai, che scuola! Lei dice sempre che la mamma è la donna perfetta non sbaglia mai e non c'è nessuno come lei E se è per questo perché si vuole sposarlo perché non ci stavo lavato? Così ho detto Poi mamma è la donna perfetta che il papà si va fatto di carta perché io la penso così Per tutti i filari cosi, eh! Hai fatto una roba per me! E visto che non sei da la comune no? Cosa hai fatto che entra da questo lavato? Eh! Merlina! E cavolo! Io volevo tornare a casa e ci sta pure tornando ma quella voce ha cominciato di nuovo ad entrarmi per la testa e mi diceva così Cosimo! Sei ancora in tempo! Vai! Pensa agli interessi della tua famiglia Ingegneri io lo so di chi era quella voce E brava me ne dici a tutti quanti dici di chi è sta voce? No, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 Quella voce era 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 Hai ragione Merlina è lui il nemico delle nostre armi Dai Paolo Dunque mi dicevo che mentre vivevo questa situazione ho fatto una cosa mi sono ricordato delle parole del mio amico mi chiede e l'ho chiamato per darci appuntamento a di a a a a a a a Grazie.